Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Faltori Gamer Neto, Sepet, Onija e Zangebent Buonasera Siamo qui, siamo qui con i rigori di Francia-Argentina perché per chi ha seguito la live su Twitch, chi non ha seguito è qui per andare a followarci la partita è finita, i supplementari è 2-2 e perciò siccome online non potevamo fare i rigori nemmeno i supplementari erano raggi, li siamo inventati Sì, e non potevamo registrarli Eh no, esatto, cioè i supplementari sì, ma i rigori no quindi abbiamo dovuto fare di offline, poi caricarli su YouTube Dunque, allora, adesso andremo a fare, c'è molta tensione perché è stato un 2-2 soffertissimo Eh, preso per i capelli da parte della Francia era veramente con un piede fuori poi sembrava passare il turno e dopo l'Argentina ha pareggiato quindi un'altra linea di emozioni Sì, sì, è stato urlato come un pazzo dal pareggio di Messi Siamo pronti? Grazie Ranno, sono prontissimo Sento molta pressione, ma qua siamo e gli uomini si vedono anche in questi momenti Che cazzo selezionare? Che problemi ha? Ah, selezionare? In che senso selezionare? No, 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 perché? Non si sa Vabbè, si riparte Come vincere a Francia Contro Romero Aspetta, c'è la freccia, c'è la freccia, c'è la freccia Ah, perché la vedi, vero? Vero, vero, vero Eh sì, sì, è come se possiedi da te Hai ragione Aspetta che la devo portare Ok, va bene Ah, che brutto rigore di Dembélé, mamma mia Bruttissimo Grititissimo No Eh, Gun, non sbaglia, non sbaglia, non sbaglia Ah, vale Oh, la Angola Decisivo Vabbè Ah, va a c***a La spiazza Attenzione Se lo segna a vincolo E poi i due E c'è, e c'è L'Argentina passa L'Argentina passa ai quarti Con la sofferenza Pazzesca Ma ce la fanno Decisivo Iguain Che prima l'hai criticato No, vabbè Ha fatto qualche sponda di m***a E ha guassegnato il rigore Vabbè, grazie al c***o E che cos'è? No, no Più decisivo Messi è mercato direi Mi sono piaciuti molto I partiti Boh, Messi secondo me Non ha fatto niente Cioè, boh Ha segnato ma Solo quello Non mi è dispiaciuto E complessivamente Però Partita sofferta Alla fine La scutano Per un rigore di differenza Eh sì Passa l'Argentina Quindi Eliminata la Francia L'Argentina Mamma mia Il disappunto Se li volti dei francesi Un pallone che vuole Addietro a Dunque dopo il 2 a 2 Dei tempi supplementari Passa l'Argentina La seconda squadra Di Theo Che va ai quarti Che potenzialmente Scoperte ancora 4 Se ti vanno bene Eh sì Se vinci con l'Uruguay L'Australia Sì Bene Adesso la stacchiamo Così la butto subito Su YouTube Per chi Voglio seguirci Allora Un saluto a tutti Grazie Ciao Ciao Ciao